Ciao Pino Bella Wyo, come state? Giornata perfetta nel camper È l'una? Ma vestiamoci che così va tanto bene Belli freschi, adesso andiamo a fare un po' di spesa E sistemiamo le cose anche chiaramente Tadà Tadà Bene, questo è tutto quello che abbiamo comprato Discount-ins, secondo me è uno dei migliori in Italia a livello di prezzi Qualità direi anche Testato anche sui cani, vero Luna? Eh? Dovrò sistemare tutta sta roba qui Poi portiamo Luna a fare due passi Con i camiozzi che passano Mi sono dimenticato una cosa molto importante da fare Cioè pulire il nonno Ma ci mettiamo un attimo, vi faccio vedere Mannaggia Farvi vedere tutto che pulisco il nonno è un casino Dovrei avere una terza mano Quindi accontentatevi Dai, vi spruzzate così e via Dai Dai, su Wyo Andiamo a materassi di net 10 euro Ragazzi Affrettatevi Stiamo affinendo le scorte Amuchina liquido pavimenti Super igienizzante Testata dal Vaticano Ragazzi Perfetta 10 anni di meno per il nonno Se non 15 Wyo La vita è una sola Ma che cazzo sto dicendo?